Angol Grampa è una serie televisiva animata statunitense creata da Peter Braungart. E la sua sigla è bellissima. Se Radio Subasio avesse un canale televisivo? Sì, sarebbe perfetto. Se la sigla di Dora l'esploratrice avesse la sigla di Johnny Bravo? No. Sitting Ducks Channel, Johnny Bravo Channel, SpongeBob Channel, Idalton Channel e i Greens in Città Channel, forse, ma no. Se 27 trasmettesse i segreti di Twin Peaks? Forse, ma non si sa. Se MTV Brand New ed MTV Pulse ritornassero su Sky? Sarebbe perfetto, ma non si sa. Ciao a tutti e alla prossima.